Se vuoi portare il mio regalo? Che regali vuoi? Diggielo a Babbo Natale! Tutti i regali! Devi dire il nome dei giocattoli! Sì, sono bello, ma papà sì, papà no! E poi? Sì, sono bello, papà sì, papà no! E poi? E poi? Masha Casiglioso! Masha Casiglioso e poi? Peppa! E poi? Peppa! E poi?